Che il buongiorno non si vedesse già dal mattino è stato chiaro all'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Vicenza, inaugurati in un clima di fortissima tensione e dissenso, esasperato non soltanto dalle drammatiche vicissitudini finanziarie, ma ulteriormente stimolato dalle recenti dimissioni dell'amministratore delegato Francesco Iorio, il cui congedo è stato pagato a suon di milioni di euro. Un consesso riunito per decidere il punto all'ordine del giorno, ovvero la cosiddetta azione di responsabilità nei confronti di quel management guidato da Gianni Zonin, responsabile del crack dell'Istituto di Credito, pari ad una voragine di 6 miliardi di euro, provvedimento votato a stragrande maggioranza. Dopo la lettura della scaletta dei lavori da parte del presidente Gianni Mion, sono iniziati gli interventi dei soci dal palco. Il vicepresidente Salvatore Bragantini ha ricevuto fischi e boati di disapprovazione quando, rivolto alla platea, ha ricordato che nella stessa sala avete votato tutto quello che vi è stato proposto, inclusa la bocciatura dell'azione di responsabilità lo scorso mese di marzo. Alla ribalta anzitutto gli azzerati, ovvero i piccoli soci, i cui investimenti sono stati polverizzati dalla vecchia gestione. Manifestazioni di protesta e disperazione hanno caratterizzato gli interventi, come quello di un noto imprenditore di Asiago scoppiato in lacrime per essere stato consigliato a vendere le azioni di BPV e non averlo fatto. La platea, oltre 800 persone in rappresentanza dei 120.000 soci, è rumorosa, indignata, disillusa. I soci non chiedono elemosine, come sembra preannunciare la ventilata proposta di conciliazione che l'istituto si prepara a presentare, ma i loro soldi investiti. Tante anche le donne presenti accomunate agli uomini dall'identico atteggiamento di perplessità e scetticismo, riassunto nel commento di una signora che ha mormorato, una vergogna come questa poteva succedere solo in Italia.